Sinceramente non so come iniziare questa recensione, perché è stata una partita talmente agguerrita, talmente combattuta, con occasioni da ambo le parti e diversi dibaltamenti di fronte, che dal punto di vista ottimistico posso comunque prenderlo come un punto guadagnato contro la capolista che finora le aveva vinte tutte, giocando una partita appunto tosta, dinamica, senza risparmiarsi neanche un secondo fino alla fine. Dall'altro canto però, dal punto di vista pessimistico, è già la terza volta che giochiamo un big match, anche in maniera positiva e non riesce a raggiungere la vittoria, perché con la Lazio hai pagato, secondo me, i primi 20 minuti di blackout totale, ma per il resto hai fatto una buonissima partita e il pareggio poteva starci tranquillamente. Con la Juve stessa cosa, tralasciando gli episodi arbitrali che non voglio più nominare, comunque a livello di gioco espresso da le squadre, un pareggio perlomeno te lo saresti portato a casa. Questa sera poteva benissimo arrivare la vittoria, ma come la nostra storia ci ha insegnato, pur sperando sempre di segnare nei minuti finali, avevo costantemente il pensiero che alla fine la beffa l'avremmo presa noi. Poi quando è entrato Mertens e compagnia bella ho detto che sta vedi che all'ultimo vanno a segnare loro se la portano a casa come al solito e i tifosi della Roma non guarderanno mai la prestazione buona che hai fatto, ma solamente il risultato di 1-0 interno in casa. Quindi sono contento che perlomeno hai smosso la classifica, fermando una squadra che di qui alla prossima probabilmente avrebbe raggiunto il nostro record di vittorie consecutive alle prime giornate. Non che sia tanto importante, perché quell'anno ne facemmo 10 e comunque non vincemmo lo scudetto, però per una questione anche di orgoglio personale sono contento che si siano fermati anche grazie a noi. Parlando appunto della partita, io sento veramente di recriminare poco ai nostri giocatori. Diciamo che rispetto al Napoli si è vista fin da subito una differenza non tanto tecnica a livello dei titolari quanto più di Rosa in generale. Diciamo che il Napoli è la squadra che Murigno vorrebbe, cioè fatta di 11 titolari di altissimo livello, ma anche di panchinari che possono farli rifatare e non far calare il rendimento della squadra, perché tu hai potuto far entrare solamente Esha Rawi e Shomurodov, anche per la scelta coraggiosa di Murigno di mettere molti primavera e le cosiddette riserve in tribuna. Loro hanno praticamente un pacchetto anche di panchinari, ormai il Napoli non è più una squadra basata solo su un 11 e senza una rosa. È una squadra che può avere almeno 20 giocatori in discusso valore, perché mi toglie i titolari, mi metti Mertens, mi metti Lozano, mi metti pochi altri entrato. È il Mass che ha avuto anche una bella occasione. C'è una differenza. Diciamo che sotto questo punto di vista i nostri hanno faticato ancora di più, perché hanno dovuto giocare quasi sempre gli stessi fino all'ultimo secondo senza fermarsi mai. Io sono estremamente orgoglioso della prestazione della nostra squadra, perché ha dimostrato fino all'ultimo di voler provare a vincerla. Mi sono piaciuti, diciamo, quegli attimi con i giocatori che cercavano di prendere, diciamo, il tifo dalla propria parte, che non è mancato neanche un secondo. Tra l'altro divertente quel scenario con i cori contro Spalletti, subito dopo i cori con Totti, come se appunto ancora fosse viva questa rivalità, che secondo me può anche essere accantonata, ma sappiamo che da queste parti funziona così. Però, a parte questo, comunque è stato bello rivedere lo stadio veramente pieno, con quasi 50.000 persone che hanno intonato cori e fatto sentire l'ambiente ancora più rovente dal primo all'ultimo minuto. Di occasioni veramente nitide ce ne sono state da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda il Napoli, non posso non menzionare il palo clamoroso di Ossiman su doppia deviazione Mancini-Bagnez con la palla che poi è uscita. Io in quel momento ho avuto seriamente il pensiero che potessimo vincerla, perché se non è entrata in quell'occasione, ho detto, questo è il destino che la vai a portare a casa. Però alla fine non ci sei riuscito, anche magari per qualche errore nella conclusione delle azioni. Se devo trovare un appunto, un qualcosa che non mi è piaciuto, soprattutto nel primo più che nel secondo, è il fatto che tu hai costruito anche belle azioni, ma quando c'era, diciamo, da fare l'ultimo movimento, l'ultimo passaggio, l'ultima conclusione, hai spesso sbagliato. Magari hai fatto un passaggio troppo corto, magari uno troppo lungo, magari uno non molto preciso. In conclusione hai fatto un bel gioco, secondo me, ma ti è sempre mancata l'ultima giocata. Più nel primo che nel secondo, perché io nel secondo tempo avevo paura che il Napoli uscisse e si portasse a casa la partita, visto che ultimamente ha fatto comunque partite di questo tipo. Primo tempo guardingo, secondo tempo in cui esce fuori e riesce a raggiungere i tre punti. Ed infatti nel primo quarto d'ora è stato così. Il Napoli ha preso, diciamo, il pallino del gioco in mano e ha appunto avuto l'occasione già citata di Ossiman e varie altre opportunità per segnare l'1-0. Poi però sei cresciuto tu, indubbiamente. Questo non è come il blackout del derby in cui tu veramente non hai toccato palla. Sei leggermente calato, ma perché ci stava benissimo, perché il Napoli quest'anno è una squadra diversa rispetto agli altri anni. È sempre stato difficile affrontarla, ma quest'anno si vede che hanno qualità, hanno un allenatore competente, hanno dei giocatori in mezzo al campo che io vorrei veramente tanto, soprattutto quel rimpianto di Anghissà, vi giuro. Non mi dà fastidio, però rosico nel vederlo lì a centrocampo, perché per quanto Cristante secondo me è stato uno dei migliori in campo oggi della Roma, ma senza ombra di dubbio, cioè se gli do un voto gli do un 7 perché è stato veramente bravissimo. Avere uno come Anghissà in mezzo al campo vuole dire tanto, perché recupera palloni, riesce anche a servirli bene, non è uno ruvido. Cioè sì, magari ogni tanto ti fa anche il fallo, però ha dei piedi anche educati, quindi uno come lui secondo me a livello di equilibrio ci sarebbe servito come il pane, però non possiamo certo piangere adesso sul latte versato. Speriamo che ci siano delle alternative come Zaccaria e speriamo che a gennaio si riescano a concretizzare. L'esclusione delle riserve ci fa capire fondamentalmente che Mourinho continua a vedere solo 12-13 giocatori. Sicuramente è stata una scelta rischiosa, come ho detto, perché in alcuni tratti della partita diversi giocatori si sono fatti male. Vedi Abram che comunque gli faccia i complimenti per essere rimasti in campo fino all'ottantesimo più o meno. È vero, si è mangiato quel gol, però non mi sento di accusarlo solo per quello. Cioè non posso giudicarlo solo per quell'errore, sicuramente poteva fare meglio. Forse ha influito anche il fatto che si era fatto male sulla gamba pochi secondi prima e non si aspettava magari di ricevere un'occasione proprio appena si è rialzato. Però ecco, sicuramente quella è un'occasione che di solito non si deve sbagliare, ma non voglio colpovolizzarlo perché appunto vedere che ha deciso di restare in campo, nonostante sembrasse ormai destinato ad uscire fino all'ottantesimo, mi ha fatto capire che il giocatore con i suoi limiti, che sicuramente migliorerà nel tempo, ha tanta voglia di dimostrare e sicuramente ci riuscirà con la nostra maglia. Lo stesso Osiman, che secondo me ha fatto una bella partita, seppur con tante situazioni di fuorigioco che hanno fermato azioni pericolose del Napoli, il primo anno non ha fatto benissimo per infortuni e varie cose. Adesso è una forza della natura e sono contento tra l'altro che comunque si è riuscito a non far fare gola al Napoli. Cioè, guardandola dal punto di vista generale, è vero, non hai vinto, magari in classifica non so se adesso sei quinto o sesto, però il Napoli credo che segnasse da più di 30 partite consecutive e non l'ha fatto segnare. E non è che c'è stato un dominio del Napoli, ma è stata una partita molto equilibrata e combattuta. Gli ha fermato la sliscia di otto vittorie consecutive, visto che finora anche incontrando squadre come Juve e pochi altri, trovavo comunque anche incontrando squadre importanti sono sempre riusciti a ottenere il risultato. Io sono contento, mi dà fastidio solo che magari potevi avere un po' più di fortuna e te la portavi a casa, però non ho veramente nulla da rimproverare ai nostri giocatori, se non appunto, come ho già detto, il fatto che all'ultimo è sempre un po' sbagliato la giocata, quasi per paura appunto di sbagliarli, alla fine appunto ci sei riuscito, sei riuscito nell'errore. Adesso avremo una partita difficile mercoledì col Cagliari, una partita contro una squadra in netta difficoltà, con un allenatore che adesso deve ancora ritrovare la maga, ma spero che non ci riesco contro di noi perché comunque c'è ancora tanto tempo per dimostrarlo. Però per la partita di oggi veramente sono soddisfatto, sono soddisfatto, potevi anche perderla, con un po' di sfortuna potevi anche perderla, però mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che nel secondo tempo è più cresciuta che rallentata. Cioè io veramente ho visto una squadra che col passare dei minuti ha corso di più, è stata più attenta dietro. È stata una partita molto fallosa, veramente tanto fallosa da una parte e dall'altra. Sicuramente magari noi ci abbiamo messo più del nostro, soprattutto nel finale, per evitare guai peggiori, ho visto falli uno di seguito all'altro, quindi è stato un po' un casino. Ci sono state le espulsioni di Murigno e di Spalletti, quella di Spalletti sembra che addirittura non dovesse esistere perché l'allenatore sembrerebbe che abbia applaudito l'arbitro in maniera seria, mentre per quanto riguarda Murigno diciamo che l'ha accettato anche lui perché veramente oggi era tarantolato e ha fatto capire, come se ne fosse ancora bisogno, che lui non è venuto qua per perdere la reputazione ma perché ci tira al nostro progetto e vuole vedere una Roma vincente. Cosa che veramente io non capisco come molti potevano avere dubbi su questo, cioè uno come Murigno, orgoglioso e carismatico come lui, viene alla Roma per prendersi la pensione. Ma con chi pensate da ver che fa? Cioè non mi pare che sia un vecchio di 80 anni che ormai non allenava più da anni, parliamo di uno che ha ancora tanta fame e tanta voglia di dimostrare con i suoi difetti, però è uno che vuole vincere, è uno che per la Roma farebbe di tutto, come ha sempre detto. Vedremo un po' quello che succederà. Come ho detto appunto, secondo me è un punto guadagnato, un punto giusto. Ecco, diciamo che se noi avessimo vinto probabilmente molti napoletani avrebbero detto eh però anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, questo e quell'altro, e proprio questo mi dà fastidio, perché tu finora hai fatto tante volte questo discorso, con la Juve hai giocato bene, però hai perso, con la Lazio hai giocato bene e hai perso, oggi hai giocato bene e pareggiato. Si sta facendo quel passo in più, perché comunque affrontare il Napoli ora come ora era difficilissimo, ci manca quella mentalità in più, magari quella precisione in più nel finale per poter raggiungere appunto la vittoria. Speriamo che poi nel mercato invernale, resistendo fino a quel momento, arrivino anche le riserve che Murigno vuole, cosa almeno potrei anche intercambiare i titolari con più regolarità, e speriamo appunto di fare un campionato degno di questo nome. Detto questo ragazzi, allora non voglio dilungarmi troppo, vi invito a lasciare un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per ricevere notifiche, aggiornate su tutti i miei prossimi video. In descrizione troverete i link di tutti gli altri miei profili social, vi chiedo di seguirmi anche sul secondo canale di gaming, che ricomincerà a breve con tanti video divertenti almeno spero. e ci vediamo domani per le pagelli di Roma-Napoli, forse stasera con la recensione di interview, però in ogni caso lo vedrete se la caricherò. Un saluto, sempre e comunque forza Roma, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!